amore ma dove sei ma dove sarà maia amore bimba mia amore ma sei nascosta ragazze buongiorno buongiorno dovete sapere che ieri maia ha come al solito ha subito un piccolo trauma perché l'ho portata a tosare vi ho fatto anche un brevissimo video e per lei non è tanto essere tosata ma essere presa ed essere messa nel trasportino è una cosa che la traumatizza di cui ha tantissima paura forse anche perché questo discorso di essere messa nel trasportino la riporta a quando la porto dal veterinario quando l'ho fatta sterilizzare quindi proprio lei ha una paura ragazze che non vi dico di fatti ieri quando poi quel ragazzo ha finito di tosarla tranquillamente è rientrata nel trasportino anzi c'è entrata volentieri perché se ne voleva andare da lì e poi e non ha miagolato mentre all'andata quando ancora diciamo c'era l'ignoto non sapeva dove l'avremmo portata miagolava proprio in una maniera che si capiva che era impaurita comunque tutto a posto l'abbiamo fatta tosare ora non soffrire al caldo era piena di nodi e li abbiamo tolti perché anche bianca la facevo tosare perché queste gatte con questo pelo lungo è inevitabile che il pelo si annodi anche perché non è che si fanno spazzolare comunque ragazze abbiamo fatto tutto poi vi volevo dire se questa sirena ora mi permette di parlare vediamo magari chiudo e si sente di meno allora ragazze niente volevo parlare di questi ultimi prodottini che mi sono arrivati da shane cioè sono di sci glam comprati su shane allora assolutamente un flop perché vi faccio vedere allora questa è la matita per le sopracciglia e abbiamo da un lato se riesco ad aprire ok da un lato abbiamo questo pennino vediamo se mette a fuoco allora da un lato c'è questo pennino che va bene lo richiudo altrimenti si asciuga dall'altro lato invece c'è questo che dove dovrebbe uscire la punta è invece niente è difettoso sarà rotto perché lo giro da tutti i lati ma non funziona non esce la punta quindi mi sono rassegnata che utilizzerò solamente l'altro lato appunto dove c'è il pennino e questo è uno poi abbiamo il rossetto allora il rossetto la stessa cosa da un lato abbiamo il rossettino questo che tranquillamente esce appunto ruotando questo affare diciamo che il colore non mi fa impazzire però mischiato con la matita non è male solo che la matita anche lei è rotta perché ieri e l'ho provato ruotando usciva però poi non è più rientrata perché dovrebbe così esce e così rientra invece niente la matita è uscita si è rotta perché è molto sottile quindi una volta che è uscita io la volevo giravo per rientrarla si è un po spezzata insomma ragazze l'ho staccato e l'ho buttata per farla breve l'ho staccata e l'ho buttata e quindi diciamo questi due prodotti assolutamente bocciati e sono un flop per fortuna diciamo il prezzo è piccolo piccolo perché era circa due euro e qualche cosa quindi questo invece è il correttore che oppure invernale molto più chiaro e questo diciamo che come prodotto è promosso perché molto coprente bello intenso pastoso cremoso quindi mi piace non sono soddisfatta al cento per cento per il colore però la scelta del colore eventualmente è un mio errore quindi va benissimo allora i prodotti in questione sono costati circa due euro e cinquanta l'uno quindi diciamo poco male e questo forse qualcosa in più forse questo quattro euro ma questo devo dire che li vale tutti e quindi questi due flop niente da fare e va bene ogni tanto qualche cosa che non va c'è poi ragazze che dirvi ieri sono stato poco presente perché di mattina praticamente ho impegnato tutta la mattinata con mia figlia abbiamo fatto alcune cose poi siamo state pure dal dottore per la solita visita e per fortuna è tutto a posto la bimba cresce normalmente tutto nei parametri quindi va bene così e niente poi di pomeriggio che ho fatto poi di pomeriggio appunto c'è stato l'impegno di maia di andarla a fare tosare che ragazze è già un impegno perché prenderla lei ha paura metterla nel trasportino per fortuna che siamo io e mio marito perché una persona da sola non lo potrebbe fare e quindi sono stata poco presente per questo motivo poi appunto dopo la tosatura siamo state al poseino dal poseino ne ho fatto un piccolo video perché mia figlia doveva ritirare delle cose date zenissi perché aveva ricevuto una gift card e poi ha comprato altre cosi insomma ragazze è un po' diciamo la giornata piena e poi di sera c'è stato marco mio figlio a cena qua e quindi è stata una giornata ricca di cose da fare e però insomma per fortuna le abbiamo fatte tutte di fatti per due giorni non sono state in palestra perché il martedì mi sono pulita tutta casa nel pomeriggio poi sono andata da mia figlia a farle delle cosine ieri appunto di mattina ginecologo di pomeriggio dosatura e cose varie quindi sono stata appunto poco presente comunque ragazze io ora che cosa sto facendo sono a buon punto ho già finito il bagno devo solamente passare lo straccio qua in tutta questa zona ho lavato tutte le ciotole di maia perché soprattutto e soprattutto il problema è che l'acqua le ciotole appunto dove io metto l'acqua fa il calcare quindi ogni tanto appunto tolgo questo calcare e queste appunto sono questa è diciamo il critico delle ciotole dove vanno queste ciotoline con le orecchie da topolino dove tengo i croccantini insomma lei ne ha tantissime cose a questa poi a quel piattino dove invece si mangia l'umido poi a questa qua invece dove gli tengo solamente l'acqua e poi ne ha un'altra in cameretta appunto dove io registro i video ne ha un ulteriore con acqua e croccantini quindi la mia principessa non si può lamentare è trattata come giusto che sia meglio di noi meglio di un umano ragazze una veloce doccia prima di andare in palestra veloce doccia io divido in due categorie doccia veloce quando non devo fare lo shampoo l'ho fatto ieri pomeriggio quindi oggi non lo devo fare e doccia invece è più lunga quando faccio lo shampoo ad ogni modo vi volevo parlare di nuovo visto che già li ho usati degli ultimi prodotti che ho comprato per i capelli da acqua e sapone no da tigotà allora il marchio è questo test test essens bu non so come si legge professional allora questo è un siero spray protettivo ai semi di lino e poi ho comprato questo che invece è un prodotto sempre semi di lino cristalli liquidi lucidanti vi devo dire che da quando utilizzo questi prodotti e i capelli io li asciugo mi viene fuori una bella piega proprio il capello è molto più docile è più appunto più docile al phon alla piega quindi devo dire che questi prodotti sono promossi ieri ad esempio ho utilizzato anzi perché io mi faccio lo shampoo e utilizzo questi qua i cristalli di cristalli liquidi che sono lucidanti e poi subito dopo applico il siero spray termoprotettivo invece ieri ho fatto così questo non l'ho messo e ho utilizzato questo di sunsilk ve ne ho parlato a lungo di questo liscio perfetto vedete questo è il liscio perfetto ieri ho utilizzato questo appunto che è un prodotto cremoso ne basta pochissimo e poi ho messo il termoprotettore devo dire ragazze che viene fuori una piega più facile i capelli sono proprio più molto molto più docili quindi alternando questi prodotti devo dire poi ragazze vi devo dire con tutta sincerità che l'effetto mi può durare un giorno perché poi specialmente ora che io comincio a sudare il capello si increspa un po' sarriccia però il giorno che io faccio la piega devo dire che i capelli mi riescono molto molto bene vediamo se vi posso fare vedere maia che chissà dove era infilata e l'uscita amore ti fai vedere dalle mie amiche allora praticamente per ora maia sembra uno swiffer amore 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 mio vedete ha questa bella coda ieri gliela pulita tutta questa bella coda che sembra appunto una cosa per spolverare poi qua sembra di velluto perché ha questo pelo corto bello vellutato liscio senza nodi vero vita mia vero vita mia 30 euro abbiamo pagato per questa bimba ieri è vero vita mia vita mia sei tu vita mia tu sei la vita mia ecco qua maia gioia mia ma sei una cosina da niente senza pelo amore ma senza pelo sei una cosina da niente vita mia sei tu vita mia vita mia vita mia allora ragazze vado a farmi sta doccia allora ragazze sono in palestra e mi voglio fare almeno mezz'ora di tapirulam e cominciamo allora cominciamo magari con tre e mezzo e poi cerchiamo di arrivare a cinque dai cominciamo fra un paio di minuti lo portiamo a cinque ok allora ok 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 Grazie. Allora io ho fatto in palestra quello che mi ero prefissata, poi tornando a casa avevo già le lenticchie cotte che ho fatto stamattina e ho fatto la pasta con le lenticchie. Ora questa è la cucina del dopo pranzo e forse finalmente poi mi vado a riposare un poco. Più tardi devo andare alla mia figlia perché vuole essere aiutata a fare un po' di lavatrici. Grazie.